Ciao. Visto che ancora non me la sento di andare dalla parrucchiera, per i motivi che vi ho descritto in uno dei precedenti video, ho pensato di raccontarvi la mia esperienza di quando ho incominciato, seriamente, a far uscire la mia parte femminile. Vi faccio leggere alcune frasi. Uscì di casa e mi recai all'istituto di bellezza per la depilazione. Quando finì, il mio corpo era completamente liscio. Non riuscì a resistere. Lì mi cambiai. Mi misi la minigonna, la maglietta femminile e delle ballerine come scarpe. Ella mi chiese, come li facciamo? Le risposi che volevo una messa in piega con i bigodini e il casco. Mentre mi avvolgeva i bigodini, mi disse, ho chiamato la mia collega così incomincia a farti la manicure. Due professioniste solo per me, la parrucchiera, che continuava, in modo meticoloso, a mettermi i bigodini, e l'estetista che si prendeva cura delle mie unghie. In quel momento, mi sentii una vera donna. All'ultimo mi diede un biglietto da visita del negozio dicendomi, spero di vederti presto, sei stata proprio una brava cliente. Si era rivolta a me al femminile, e mi chiede partimmo per andare in una discoteca fuori Milano. E che sentivo che stava succedendo qualcosa dentro di me, e volevo che succedeva. E qualcosa successe. Stavo sorseggiando il mio cocktail seduta al banco del bar quando si avvicinò un uomo e mi disse, ciao, posso sedermi vicino a te. Non so come mai, ma mi faceva piacere ricevere tutti quei complimenti. Ero attratta da lui. Subito dopo sentii la sua lingua che stava cercando di farsi strada tra le mie labbra per entrare nella mia bocca. Provai un vero piacere sessuale, cosicché feci muovere la mia lingua strofinandola alla sua. E mi disse, ti va di continuare questa bella serata a casa mia. Sentii, infatti, qualcosa di umido che cercava, in modo vertiginoso, di farsi strada nel mio buco posteriore. Era la sua lingua. Gli gridai, piano, amore, piano, per favore, ma lui continuava col suo intento fin quando riuscì a mettermelo tutto. A quel punto, prese i miei fianchi con le sue mani, e incominciò a dare il suo ritmo. La mattina mi svegliai per prima e mi venne in mente una cosa che avevo letto in un racconto pornografico e che mi aveva fatto molto eccitare, svegliare un uomo facendogli una pompa. Raggiunsi con la bocca il suo pene, e cominciai a ciucciarlo. Poi il taxi partì riportandomi a casa, mentre cercavo di sentire ancora il sapore del suo sperma nella mia bocca. Eccitante, vero? Se vuoi leggere tutto il racconto, sia il capitolo 1, che il capitolo 2, devi andare nel mio sito. www.patreon.com barra Lidia Zonetto. Grazie e buon divertimento.